Fisico, il livello del corpo che lavora in armonia, ogni muscolo che lavora in armonia con tutti gli altri, le ossa che lavora perfettamente allineate, il corpo perfettamente concentrato, allineato, connesso, poi ci sono altri livelli, il livello energia, dove ancora l'azione è più spettacolare. Se agiscono i muscoli, tu mi senti ed è facile controllare, questi sono i muscoli, questi muscoli è facile da controllare, hanno un punto di appoggio, è un punto dove puoi controllare. Si vede già fuori quello, se osservate anche un canto, si vede a saltare, così fa, sembra allargarsi, e poi è quello che fa, e questo è sostanzialmente il 3C, è l'arte nel movimento naturale, la sciarfare al corpo, però ovviamente noi avendo perso quest'arte nel movimento naturale, attraverso il Tai Chi la possiamo recuperare. Come avete visto, la moderna biomeccanica va sempre di più verso questo modo di agire, adesso tanti parlo di muscolatura profonda, ho il palestra e il coro della pratica, e nel Tai Chi sono centinaia e centinaia di anni, i miei articoli e i miei libri saranno ormai quasi vent'anni fa, io scrivevo, parlavo di power stretching, adesso molti ne parlano, si riempiono la bocca, ma pochi sanno effettivamente come ci si allena. Faccio una domanda, sapete qual è, così, un po' provocatorio, che i muscoli ilo e psoas, che è il muscolo più importante che abbiamo, quello che regge tutta la struttura del nostro corpo, il cavo centrale, avete mai trovato come si allena questo muscolo? Ok, un po' più basiche, un po' più basiche, un po' più basiche, ok, prossimo è The Last Master, prossimo è ultimo, dopo proviamo, ci metteremo nel movimento, nel Tai Chi.